Prima di usare Frost Effect, al fine di rimuoverlo poi facilmente, è consigliabile spruzzare antispot. Frost Effect, effetto brina, è quell'effetto biancastro di ghiaccio che si forma sugli oggetti appena tolti da un freezer. È un effetto che in natura dura pochi secondi, ma facilmente ricreabile e di lunghissima durata, spruzzando appunto Frost Effect. Grazie per la visione!